Federica! Siamo in diretta! Siamo in diretta su Facebook! Vieni, vieni Federico! Salutiamo! Telegarilevo, è un piacere avere i nostri microfoni. Federica Carta, innanzitutto, a che numero di store siamo? Non lo so. Boh, 20, 30, un sacco. Senti, ma tutta questa gente che ti aspetta, ragazze che si strappano i capelli, che fanno chilometri e chilometri solo per un abbraccio. Io voglio bene, comunque sono persone che fanno anche tanti chilometri per vedermi e per me è bellissimo, anche perché io l'avrei fatto per il mio idolo e saprei che io sono il loro idolo. Qual era il tuo idolo prima di diventare idolo per gli altri? Ce ne ho avuti tanti. Da piccolina ero innamorata di One Direction, vabbè. Adesso il mio sogno è incontrare Paolo Nutini, però vedremo. Come tanti altri ragazzi, magari hai provato la carta del talent, no? Ma t'aspettavi un seguito del genere? Cioè, quando hai capito che poteva essere l'anno giusto questo? Sinceramente non lo so, non l'ho capito fino alla fine. Vedevo comunque che il pubblico era preso da me, gli piaceva quello che facevo e poi, vabbè, la conferma maggiore ce l'avevo da sicuramente quando ho prodotto il disco e l'ho lanciato e va benissimo. Perché dall'uscita di Amici sei stata sempre nella top ten? Insomma, per un esordiente? Sì, no, esatto. Infatti è assurdo, è assurdo, non me l'aspettavo. Senti, sei pronta per questi due live? Perché, insomma, gli store fanno piacere, però poi la prova del palco è importante. Infatti io sono un po' impaurita perché sono molto timida, come potete vedere. e gestire due live, anzi. Da sola sarà un po' complicato, però c'è tanto calore dalle persone che mi seguono quindi sicuramente mi aiuteranno anche un po' loro a gestire questa timidezza. Senti, ad Amici ti abbiamo visto anche accompagnandoti al pianoforte quindi diciamo la dimensione Federica io la colloco anche in quel tipo di mondo. Sul palco di Roma e di Milano ti vedremo in quel modo? Sicuramente sì, anche perché mi manca tanto esibirmi live in acustico anche in un piano di me stessa, in un piano di me stessa, in un piano di me stessa. Io mi ricordo della Federica giovanissima, anni fa quando cantava i suoi brani. Adesso nel disco qualche brano di Federica c'è, nel successivo vedremo solo un pezzo di Federica. Stai lavorando? Ci lavoreremo, sicuramente ho intenzione di collaborare tanto io infatti dovrò lavorare molto duramente e ritagliarmi degli spazi di tempo per scrivere qualcosina e comunque anche cose degli altri non è che mi dispiacciono. Anche perché sono cose bellissime che stanno andando benissimo. Esatto, però ovviamente ritenendomi un'autrice ci tengo a mettere nel disco quasi anche mie. Senti, visto che ci sono tanti tuoi fan che ci seguono, un consiglio magari a chi sta per iniziare? Perché te hai da poco festeggiato i 18 anni, quindi sei giovanissima. Però diciamo che un consiglio forse per come affrontare anche tutti questi store lo puoi dare. Allora, sicuramente di viversi la musica in modo divertente, di divertirsi sempre e di impegnarsi tanto perché le cose non vengono mai da sole e di continuare a crederci con tanta passione. Senti, vuoi ringraziare qualcuno per essere arrivata fino a dove sei arrivata? Non basta il tempo. Sicuramente ringrazio la mia famiglia e tutte le persone che hanno sempre creduto in me il programma, Maria e tutti quelli che ci sono. Ricordiamo anche il nuovo singolo che è uscito da qualche giorno? Da ieri, esatto. E abbiamo fatto un rework di Forte Chiaro che si trova nel disco e spero vada bene. Per ora va benissimo. Su iTunes andiamo bene. Speriamo bene, dico di nuovo bene. Grazie Federica, in bocca al lupo, ti lascio ai tuoi fan. Grazie a voi.